Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Bambino deceduto di Cagli, per lui il verdetto dell'autopsia parla di decesso per un'encefalite Sequestrato allo chalet del mare per problemi legati alla sua licenza, il sindaco Seri furioso per questa vicenda Tragedia sfiorata a Fano per un altro ponte che perde i pezzi Le vicissitudini di un disabile del quartiere di Sant'Orso che lotta ogni giorno contro le barriere architettoniche Il Fano Calcio conquista la salvezza e il suo mister Cuttone si consacra un salvasquadre Buonasera cari telespettatori di Fano TV, ben ritrovati per Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale con una notizia che ci riporta indietro di qualche settimana Vi ricorderete tutti la chiusura per diversissime ore del casello autostradale A causa di alcuni pezzi di cemento che erano caduti dal cavalcavia che gli passa di fronte Ebbene, non siamo a quel caso, però ancora una tragedia sfiorata per pezzi di cemento Che vengono giù da un cavalcavia Vediamo dove e che cosa è successo Un altro cavalcavia perde pezzi di cemento a pochi giorni dall'episodio che ha visto per 36 ore La chiusura del casello di Fano dell'autostrada Pezzi di cemento che cadendo hanno mandato in frantumi il parabrezza di un'auto che transitava sotto il ponte In quel momento è accaduto alle 13 di oggi pomeriggio lungo la provinciale 92 all'altezza del Falcinetto Park Il ponte incriminato è quello di via Bellocchi che scavalca la Flaminia A fare le spese una smart condotta da un residente del luogo e che dopo il notevole spavento ha chiamato i vigili urbani Che sono subito arrivati sul posto per i rilievi e poi di lì è scattata prontissima la macchina dei controlli Oltre a due pattuglie della polizia locale e di tecnici della provincia proprietaria della strada Sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano che con l'aiuto di un nuovo mezzo in dotazione da poco Hanno potuto ispezionare il ponte ed eliminare tutti i detriti pericolosi in un intervento che si è protratto fino alle 18 di quest'oggi Immancabili i disagi per il traffico che però grazie a un bypass effettuato dai vigili urbani non è rimasto paralizzato I tecnici dell'ANAS eseguiranno i controlli della struttura essendo i titolari dell'opera nei prossimi giorni Uno dei locali storici della Movida Fanese ha avuto i sigilli la scorsa notte per problemi legati alla sua licenza Sentiamo che cosa è successo nel servizio di Fabrizio Naticchi Attesa per domani la commissione di pubblico spettacolo che cercherà di definire e rispondere alle domande riguardo al sequestro dello chalet del mar Il locale estivo sulla spiaggia dell'Arzilla, punto di riferimento per i giovani e la Movida di Fano e non solo Ad esprimere rammarico per la vicenda anche il sindaco Massimo Seri che chiede chiarezza riguardo all'accaduto Parliamo di un'area, di una zona che è diventato punto di riferimento per i giovani, per la Movida dei giovani Quindi è un aspetto che non va sottovalutato perché diventa importante per una città come la nostra Una città viva, una città anche turistica che deve saper dare delle risposte anche ai giovani Ovviamente la questione sollevata è una questione importante Io capisco che vanno trovati giusti equilibri quando ci sono luoghi deputati per lo svago e per una risposta a quelle che sono le esigenze giovani Con anche chi vive nella zona limitrafe Però bisogna tener conto anche del valore che esso ha Non possiamo permetterci che a certi luoghi subiscano degli stop perché poi significa non essere in grado di trattenere i giovani Io dico anche attrarre i giovani nel nostro territorio Poi ci lamentiamo se vanno a scegliere proposte e offerte da altre parti Poi c'è anche un aspetto che guarda la città nel suo insieme anche come ricadute economiche Perché comunque è un comparto importante e un sindaco deve tener conto anche di questi aspetti I sigilli sono stati messi nella notte tra sabato e domenica Quando centinaia di ragazze stavano lasciando il locale dopo una serata passata in allegria tra amici Dopo un controllo da prima in borghese di polizia, carabinieri e finanza Verso le 3.30 la notifica di sequestro perché secondo gli inquirenti Il gestore è autorizzato solo per l'attività di piano bar e non di discoteca Intanto nelle prossime ore si prospetta il ricorso al Tribunale del Riesame per la revoca del sequestro Bene, e lo chalet del mare è stato veramente un locale di tendenza, di grande tendenza appena aperto E tuttora catalizza l'attenzione di tantissimi ragazzi provenienti anche da fuori regione Sono centinaia i giovani che ogni fine settimana, soprattutto il giovedì, affollano lo chalet del mar Per passare una serata in allegria tra amici E che provengono da tutto il nostro territorio, fino a Cagli e persino Gubbio Giovani che sperano in una soluzione a breve per poter così tornare a divertirsi In uno dei ritrovi più felici della nostra spiaggia Io l'ho saputo stamattina e mi dispiace molto perché prima di tutto ci lavorano tanti ragazzi E poi per i nostri ragazzi non c'è niente, quindi è l'unico punto di riferimento Che si appoggiano, si divertono e non vedo perché lo devono chiudere E spero che il nostro sindaco possa risolvere questa situazione Sì, come locale è molto bello, poi c'è sempre molta gente Quindi non è che mi sembra che da sequestro Quindi sì, mi dispiacerebbe anche perché porterebbe via molti clienti Moltissimi anche i riconoscimenti e i premi che nel corso degli anni Lo Chalet del Mar ha ricevuto La guida al piacere e al divertimento di Roberto Piccinelli Nella quale figurano tutti i migliori locali d'Italia Conferma la qualità della ristorazione dello Chalet del Mar Segnandogli l'Oscar al piacere per la categoria Show Food nel 2011 Sempre nello stesso anno lo Chalet del Mar è stato selezionato dalla Santal Come uno tra i migliori otto beach bar d'Italia E scelto da Campari come punto per Aperol per la provincia di Pesaro Che lo utilizza per la realizzazione di feste ed eventi Per pubblicizzare i propri prodotti Senza dimenticare anche i circa 40 giovani Che sacrificano serate e giorni di festa Per i quali lo Chalet non è solo divertimento ma soprattutto lavoro Allora noi ci veniamo sempre il giovedì, il sabato sera Comunque con gli amici veniamo da Cagli E ho visto stamattina che l'hanno chiuso Spero che questa cosa si possa risolvere Anche perché è un ritrovo per tutti i ragazzi Parliamo ora della vicenda del bambino Del decesso del bambino di Cagli Curato con l'omeopatia per una otite Che purtroppo è stata invasiva per lui E tecnicamente in attesa degli ulteriori approfondimenti medico-legali Francesco è morto per una cessazione irreversibile Delle funzioni celebrali La cui causa potrà essere definitivamente chiarita Quando saranno disponibili i risultati degli esami istologici Di fatto non prima di una quindicina di giorni All'origine dell'infiammazione che ha compromesso le funzioni cerebrali del bambino C'è sicuramente un batterio non ancora identificato Non un virus che non sarebbe comunque stato debellato da un farmaco antibiotico In sede autoptica sono state condotte anche indagini per escludere possibili con cause del decesso Anche qui ci vorranno alcuni giorni per avere delle risposte Ma da una prima valutazione è emerso che il bimbo era sano Il PM Irene Lilliu ha disposto che il dottor Pesaresi possa ottenere una copia della cartella clinica del piccolo Francesco E avere accesso agli atti di indagine sui preparati omeopatici somministrati al bambino Dall'omeopata di famiglia il dottor Massimiliano Mecozzi Nell'esame peritale il medico si è fatto rappresentare dal dottor Benedetto Vergari di Bologna Mentre i genitori del bambino indagati insieme a Mecozzi per omicidio colposo Hanno nominato come loro consulente il medico legale anconetano Loredana Busceni Le scuole stanno per chiudersi e come ogni anno ci sono i saggi scolastici che procurano notti insonni agli allunni Ma tanta gioia a mamme e anche alle insegnanti che lavorano tutti gli anni per questo spettacolo di fine anno Andiamo a Lucrezia per la scuola primaria Mascarucci con il saggio conclusivo di fine anno E' stato un anno scolastico molto intenso per la scuola primaria Mascarucci di Lucrezia Durante il quale i ragazzi hanno portato avanti un progetto di educazione musicale In collaborazione con gli esperti dell'istituto Armonia di Urbino Il progetto è nato con l'intenzione di promuovere la musica come espressione di linguaggio universale Che accomuna e unisce E si è concluso sabato scorso con uno spettacolo diviso in due parti Che ha visto esibirsi un totale di 251 alunni Le classi prime e seconde hanno lavorato in modo particolare sull'ascolto, sul ritmo e sul canto Accompagnandosi con l'uso di semplici strumenti creati dai bambini stessi Le classi terze e quarte hanno invece iniziato lo studio del flauto Utilizzando anche altri strumenti quali tubi sonori, xilofoni, metallofoni, percussioni, tamburelli e chitarre Mentre per le scenografie fondamentale è stato il lavoro di un comitato di genitori delle varie classi Bene, complimenti a questi ragazzi che come tanti in questi giorni danno vita ai saggi finali di fine anno Bene, un grosso in bocca al lupo a tutti loro che lo stanno per mettere in pratica Bene, cambiamo argomento Come sempre le vostre segnalazioni sono importanti per noi Abbiamo raccolto quest'oggi quella di alcuni abitanti del quartiere di Sant'Orso Che a causa di marciapiedi troppo alti hanno dei problemi di mobilità Vediamo che cosa ci dicono Le belle giornate di sole ormai si susseguono con una certa regolarità A vantaggio non solo di mare e spiaggia Ma anche per fare una passeggiata all'aria aperta sotto casa O nei vicini spazi verdi O recarsi a piedi a far la spesa nel supermercato a pochi metri di distanza Normali piaceri quotidiani Ma non per tutti però Soprattutto se abbiamo problemi di mobilità E di marciapiedi sotto casa senza scivoli o pedane Sono delle barriere insormontabili Ne sanno qualcosa gli abitanti attorno a via Soncino nel quartiere di Sant'Orno Se sei costretto su una sedia a rotelle 200 metri di strada possono essere un vero calvario Infatti abbiamo bisogno degli scivoli Perché proprio i marciapiedi sono vecchi Non si può camminare con la carrozzella Non si può camminare Per andare al centro commerciale dovete fare la strada C'è un pezzo Un pezzo con la strada Un pezzo davanti al Simpli C'è un piccolo scivolo E lì possiamo salire sopra E dopo quanto si tratta davanti alla chiesa Lì ci sono le strisce pedonali E dopo lì si scende per andare al centro commerciale Però qui da una parte e all'altra non c'è niente No, 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 assolutamente Quindi per voi è un pericolo? E' un disagio anche perché rischiamo Che passiamo una macchina E ci può investire Certo E tutti i giorni fate questo? Sì, sì, sì Per andare al supermercato Non solo per i disabili con la carrozzella Anche per una persona che è con il bastone Cioè anziani Anziani, tutto Sì, sì Perché tra l'altro sono molto alti Sì, 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 sì Infatti Non fisicamente Non posso impennare la carrozzella Non ce la facciamo Uscire di casa così È un pericolo quotidiano Ma questa pericolosa roulette russa Non è solo a discapito di diversamente abili Anche le persone anziani o sole Con difficoltà nella diambulazione Sono ostaggio di dislivelli impossibili da superare Che alle volte arrivano anche a 20 centimetri E se qualcuno di loro casca O inciampa C'è chi si batte da tempo per evitare tutto questo Ma fino ad ora Con scarsissimi risultati Sono tre anni Dalla vecchia amministrazione Poi si è dimesso Severi Franco Poderini è venuto qui a fare il suo paluogo Ha preso tutte le misure E le ha presentate in comune Ha detto che non ci sono soldi Ci aveva detto L'anno dopo Paolini Ha detto Dobbiamo fare altri marciapiedi in un'altra parte Uguale Facciamo lì e facciamo anche qui È passato un anno Ultimamente sono andato da Fanesi Hanno detto Dobbiamo ristrutturare Sant'Orso È passato un altro anno Se il quartiere di Sant'Orso Nell'ottica dell'amministrazione comunale Deve diventare il modello di mobilità sostenibile A misura di bambino o di pedone Che allora lo sia per tutti E in ogni angolo del quartiere Dove tutti, nessuno escluso Sia libero Libero di viverlo Senza muri da scalare E in questa edizione di Occhio alla Notizia Vi mostriamo ancora una volta Delle api che hanno scelto Un sito insolito Dove raggrupparsi Vedete Siamo a Gimarra Quello è un ombrellone E quelle sono alcune decine di migliaia Di api che stanno facendo proprio uno sciame A ridosso dell'ombrellone Vedete che sagoma che hanno preso Queste sono immagini che ci hanno mandato I nostri telespettatori Che ecco qui vediamo un apicoltore Che le porta via Le sta aspirando Le sta mettendo in un'arnia Ma veramente l'ombrellone Era completamente ricoperto Da queste api Guardate qui che foto Molto eloquenti Inviateci appunto dai nostri telespettatori Che prontamente non si sono lasciati sfuggire Sfuggire l'occasione Per segnalarci questo episodio Vedete Qui sono veramente decine e decine di migliaia Qui poi tra l'altro erano Naturalmente un po' per tutto il Lido E hanno sparso anche un po' di Di terrore e di paura Per chi ha naturalmente Timore di essere punto E poi lo ricordiamo sempre Insomma ci sono dietro l'angolo Le allergie Le allergie che purtroppo Possono procurare anche Un shock anafilatico Approfondiremo questo argomento Vi faremo vedere Un servizio più approfondito Perché si stanno moltiplicando I siti dove queste api Decidono di fare uno sciame Da un cofano di una macchina A un balcone Adesso anche in un ombrellone Bene Cambiamo argomento Parliamo di letteratura Passaggi Il festival della saggistica Nel mese di giugno Da metà giugno in poi Catalizzerà l'attenzione Di tutto il mondo letterario italiano Su Fano C'è stata la sua presentazione Sarà un festival Con il cuore a Fano Ma con la testa E più di un pensiero Rivolti a Camerino E a tutti i luoghi Colpiti dal sisma E con queste premesse Che si presenta La quinta edizione Del festival di saggistica Passaggi In programma Dal 22 al 25 giugno Nella città di Fano Ma con due appuntamenti La presentazione Di due volumi Previsti a Camerino A significare La vicinanza Alle popolazioni Colpite dal terremoto Un luogo simbolo La città di Camerino Perché sede di università Con la quale Gli organizzatori Di passaggi Hanno intessuto Già dallo scorso anno Legami di collaborazione La presentazione Del festival Che per questa quinta edizione Ha lanciato L'hashtag Amore al tempo dell'odio Tema centrale Dell'edizione Legato anche A un contest fotografico E' avvenuta In consiglio regionale A rimarcare il concetto Che questo festival Festival Made in Fano E' un festival culturale Di portata nazionale E la regione Marche Conferma il suo patrocinio Alla manifestazione Beh questa è una manifestazione Molto importante Dal punto di vista culturale Non solo per la città di Fano Ma direi per l'intera regione Ed investire sulla cultura Significa investire sui giovani Investire sul futuro Ma dare anche grandi opportunità Dal punto di vista del turismo Perché grazie a questo evento Che ha una visibilità nazionale E si crea un'attenzione Su tutta la regione Marche Prodi, Donciotti, Valtelvertroni Veronica Pivetti Solo alcuni Dei nomi degli ospiti Del festival della saggistica Una significativa impronta Culturale all'estate fanese Ma è anche una imprescindibile Occasione di promozione turistica Dato che con i media partner Come Rai News 24 Radio Rai E Isoradio Gli occhi dell'Italia Per una settimana Saranno tutti su Fano Bene E migliorano sensibilmente Le condizioni di salute Di Damiano Bartocetti Che ha lasciato In queste ore Il reparto di terapia intensiva Per proseguire La sua degenza Superata la fase critica Nel reparto di medicina interna Dell'ospedale Santa Croce Il presidente provinciale Delle Proloco Ci è raggiunto Perché colto da malore improvviso La settimana scorsa Poco prima di recarsi Al lavoro E subito ricoverato A Fano Nell'ospedale Nel reparto di medicina intensiva Tanti gli attestati di stima In questi giorni E di incoraggiamento Ricevuti dal presidente Da tutte le componenti Della società Sia del mondo politico Che del mondo associativo Anche le visite Gradite Non sono mancate A Bartocetti Che ha ricevuto Tra l'altro I saluti personali Del vice presidente Del consiglio delle Marche Renato Claudio Minardi E del presidente nazionale Delle Proloco Antonio Laspina Bene Ed ora Come tutti i lunedì Affrontiamo la pagina Dello sport I tifosi di calcio E dell'Alma Lo sapranno sicuramente Da tempo Che Da diverse ore Che festeggiano L'Alma Ha conquistato La salvezza Con un bel 2 a 0 E il mister Cuttone Si riconferma Un salva squadre Tutti particolari E del fine settimana Sportivo Dalla redazione Sportiva E da Matteo Del Vecchio Grazie Lino E benvenuti Alla pagina sportiva Una prestazione Praticamente perfetta Il pubblico Delle grandi occasioni E il raggiungimento Di un obiettivo Che fino a qualche mese fa Sembrava impossibile C'è questo E molto altro ancora Nel 2 a 0 Con cui l'Alma Ieri ha superato Il Forlì Una vittoria Che per i Granata Significa Permanenza In Lega Pro E' una vera e propria Festa Granata Quella andata in scena Ieri al Mancini Dove oltre 2.500 spettatori Hanno potuto assistere Al trionfo del Fano Che non ha lasciato Scampo al Forlì Dominato dal primo All'ultimo minuto Il più in palla Deifanesi e Fioretti Che prima spara alto Da buona posizione Poi al quarto Invita la conclusione Filippini Stoppato all'ultimo Dal difensore Carini Il monologo A tinte Granata Prosegue al 22esimo Con Gualdi Che costringe al corner Alimi Un corner Dal quale arriva La rete del vantaggio Ad opera di Ferrani Che svetta E insacca la palla Al bacio Offertagli su un piatto D'argento da Filippini L'unica azione Degna di nota Dei Romagnoli E' una conclusione Di Tentoni Che finisce a lato Al trentacinquesimo Poi è di nuovo Alma Con Fioretti Che in contropiede Al trentasettesimo Sfiore il palo Con un bolide mancino A rientro dagli spogliatoi Ci si attende Un forlì all'arrembaggio Invece sono i padroni Di casa Di imporre ancora Il proprio gioco E al nono minuto Ecco il match point Firmato da Filippini Che capitalizza Il lancio di Lanini Succede poco o nulla Per i restanti Trentacinque minuti Di gioco Con il Fano Che amministra Da grande squadra E sfiora anche il Trissi In un paio di circostanze E il forlì Che non può nulla Sulla supremazia Granata Una supremazia Che al fischio finale Si trasformi in apoteosi Con tutta la squadra Sotto la curva Compresi il presidente Gabellini Il direttore sportivo Menegatti E l'allenatore Agatino Cuttone Che nei quattro mesi Sulla panchina Granata E' stato capace Di compiere Un'autentica impresa Resa possibile Anche grazie Agli affezionatissimi tifosi Che non hanno mai smesso Di incitare E seguire la squadra Anche quando la situazione Sembrava irrimediabile E la coreografia E il calore Che anche ieri Si sono visti al Mancini Non meritavano sicuramente Di finire in Serie D E dalla salvetta dell'alma Passiamo a quella Della squadra locale di Frisby Che lo scorso weekend Ha partecipato a Bologna Ai campionati nazionali Vittorie e permanenze In Serie A Per gli Spacca Madoni Con pagine maschile Dell'associazione fanese Uffa Capace di rimontare Lo svantaggio di 12-8 E superare il Bubba Brescia Per 14-13 Il team Guidato da Diego Signoretti Resta così Nella massima categoria Ed esulta anche Per l'ottimo quinto posto Conquistato dalla squadra Femminile delle Mirine E dal Frisby Passiamo alla pallovale Per dare notizia Di un importante cambio Al vertice Avvenuto nei giorni scorsi Nella società sportiva Fano Rugby Da qualche giorno infatti Il neopatron Rosso Blu È l'ex direttore generale Giorgio Brunacci Che riceve il testimone Da Francesco Livi Ora vicepresidente L'avvicendamento Venuto al termine Di una stagione Che ha visto il Fano Rugby Ottenere sul campo La salvezza in Serie C E l'accesso Per la prima volta Nella propria storia Ai playoff Per il passaggio alla B E il rugby Sarà una delle tante discipline Che praticheranno I piccoli partecipanti I jam I centri estivi sportivi Di Asi Pesaro Che l'anno scorso Hanno coinvolto Oltre 750 bambini E che sono stati presentati Ufficialmente Alle famiglie Mercoledì scorso Tanti gli sport In cui si cimenteranno I ragazzi Dai 4 ai 14 anni E tante le escursioni Previste Per un centro estivo Che cresce anno dopo anno E che questa stagione Sarà presente Non solo in tante località E quartieri cittadini Ma anche nei comuni Di Senigallia Vallefoglia Monteporzio E San Costanzo Per saperne di più Consultare il sito www.asipesaro.it O telefonare al numero 328 2662 060 Io per questa sera Mi fermo qui Vi lascio al servizio Di Fabrizio Naticchi Che questa mattina Ha seguito per noi La conferenza stampa Di presentazione Dei campionati nazionali Under 18 di volley Che si svolgeranno a Fano Dal 6 all'11 giugno Buona visione E buona serata a tutti Sarà tempo di grande pallavolo A Fano Dal 6 all'11 giugno prossimi Con i campionati italiani Maschile Under 18 I talenti migliori Del volley nazionale Si daranno appuntamento In città E tra le 28 formazioni Che si contenderanno Il titolo Anche la Virtus Padrona di casa Questo è un importante evento Che per la stagione Sportiva estiva Abbiamo catturato Una data di pallavolo Under 18 Nazionale Dove ci sono importanti Campioni che già militano In squadre nazionali Ma saranno anche I futuri campioni Quindi l'invito A tutta la cittadinanza Di venire a vedere Queste partite Di altissimo livello Tecnico Che saranno in ben 5 luoghi Alla palestra Dello Cio Scientifico Alla palestra Trave di Fano Al palazzetto dello Sport E poi in appoggio Siamo anche a Saltara E a Lucrezia Saranno giornate Dunque molto intense Sia per gli atleti Che per gli appassionati Fino alla finalissima Dell'11 giugno Al palazzetto Allende 28 squadre Divisi in due gruppi Le prime 16 Parteciperanno Alla prima fase Quattro Che la supereranno Prenderanno parte Alla fase finale Che avrà corso Da giovedì Giovedì Fino alla finale Fino alla giornata finale Dell'11 giugno Bene Archiviato allo Sport Prima di lasciarci Vi mostriamo Un paio di immagini La prima è questa qui Di uno splendido Cuccio di Capriolo Salvato al San Bartolo Vedete I cuccioli E gli animali Selvatici Sono sempre più Presenti Nei nostri centri Abitati O nelle immediate Vicinanze Alle volte Purtroppo Non gli va bene In altre Invece Arriva in soccorso L'uomo E lo sale Vedete quanto è bello Questo esemplare Di cucciolo Benissimo Speriamo che diventi Grande Bello E naturalmente Sempre più in forma Allora Basta poco Basta poco Per rendere Un posto Magari anche Il più curato Il più Messo Con cura In ordine Dai giardinieri Per rendere Per vanificare La loro opera Guardate le immagini Di questo Cestino Ecco qua Questo è quanto L'uomo Riesce a creare E a distruggere In pochissimo tempo Una bella immagine Magari Di giardini E di luoghi Frequentati Dai turisti Questa qui Un'altra immagine Che ci hanno mandato I nostri Telespettatori Che insomma La dice lunga Bene Grazie per essere stati In nostra compagnia Vedete in sovrimpressione Il numero di telefono A cui inviarci Speriamo Non foto Come quella Ma qualche Altra foto Sicuramente Ben più Gratificante Comunque Le vostre segnalazioni Per noi Sono importantissime E quindi Fatecele sempre Perché noi Daremo seguito Alle vostre Segnalazioni Bene L'informazione Termina qui Per questa sera Riprenderemo Domani mattina Puntualmente Alle 7.30 Con occhio ai giornali E poi 20.30 Il nostro Telegiornale Grazie per essere stati In nostra compagnia Buon proseguimento di serata A tutti voi A domani Grazie a tutti